questo è qua, da sotto vai piano, cosa arrivi sotto che prendiamo in un momento anche il resto delle cappuccine sai quante volte sono moriti ma non si vede un cazzo casa privata intima si, bordello cosa hanno fatto un bordello? non risolvono tutte quelle tende qui abitava abitava Tony Busse questi qua hanno tolto l'acqua come era vero quando c'era l'acqua che scendeva insieme è vero vabbè va vabbè va una volta c'era una cosa fattendo in centro anche qua c'è qualcosa qui la scalinata la piazzetta non puoi salire su di qua ah la scalinata, la scala santa quale? la cooperativa quadrifoglio e se vai di là c'è una statua bellissima la cooperativa quadrifoglio si questa è la scala santa la cooperativa quadrifoglio la cooperativa quadrifoglio vai vai fermati in piazzetta questa? si io venivo qui quando ero ragazzino guarda che bel disegno che c'era non l'hai visto? qui noi abbiamo fatto un giornale si chiama la civetta della piazzetta poi quelli di lotta continua ecco questa è la piazzetta che io venivo da bambino da ragazzino poi il fotografico si a San Domenico l'oratorio ma qui non c'era senza albero non è che non c'era l'albero una volta no gli alberi no però c'era il pino quello centrale quello lì c'era c'era l'altro queste macchine non c'erano una volta questo è l'oratorio dove venivamo a giocare dentro questi muri questo era l'onarmo c'era Rizzi una volta era l'onarmo no questo era l'onarmo poi era chiamato Rizzi no non c'entra l'onarmo è sopra Rizzi è sotto Rizzi si c'è il cinema hanno fatto il cinema hanno fatto il cinema questo è il centro storico qui c'è il tribunale adesso o vai in su o vai a destra o vai a destra vai giù via del Pino via San Giuseppe e poi via del Pino via del Pino non puoi passare ah si? e dove passa? allora da piazza Fontana fai il corso porcorato non capito c'è sempre lei o la figlia? no l'ha venduto l'hanno venduto e cosa fa Rita? scambio coppie ah è la figlia? scambio coppie scambio coppie? e funziona? no fa lei il marito sono scambisti ma non credo io fa? si? dai si ma dichiarato eh con le librette a posto sono scambisti proprio scambisti ma che pagare? guarda come campi e beh lavorano uno fa l'autista lei non so cosa fa l'altro lei 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 parcheggia non può? era era vuoi fotografare eh no se gira giù non puoi la stazione c'è un muro più bello di Pinarolo gira di lì guarda come ho fatto tu l'ho fatto tu ma ci ha fatto grabare con la guaina ma non hai visto che muro che ho fatto? non ho visto non ho visto hai visto che capolavoro la cavalleria dovevi fare vederla ma dentro? che cazzo fuori? da fuori se ti caldete questi cavalli lati ma non lo prendo con il telefono come no? ma va è troppo vicino te ora questi monumenti vedi queste facciate qua te le prendi sei di giorno l'ho fatta palazzo Vittone la piazza questo è palazzo Vittone questo è palazzo palazzo Carignano questo è palazzo Fontana palazzo Fontana non è piazza Fontana piazza Vittorio Veneto piazza Vittorio Veneto piazza Vittorio Veneto infatti uno dice ci vediamo in piazza Fontana questa arriva qua a piazza Fontana sul navigatore neanche la trova antichamente si chiamava piazza Fontana perché hanno messo quella fontana lì in mezzo è bello la polo 4x4 ma una volta questa fontana qua era messa di là lo sai poi dopo l'hanno lo so di dove la trova si è già passato il primo fai doppio doppio avviotamento con salto mortale e carpiato fai via Punivo così riprende di là non c'è dietro riprende Alberto no sono i portici di qua vabbè grattacelci guarda che grattacelci si minca grattacelci di là sono quasi normale eh Dio fa non so quella è una piccola casetta in canadà ti l'hai fatto saltare eh? Dio fa sono tutti i soldi che fai ho pensato che qui ci sono tutti i soldi non c'è male eh orca dice porti su Pinerolo tu vai dici quanto è grossa sta città no? no orca puoi capire poi la scarichi sul computer? si si vai su youtube mi trovi trovi nei cerchi mister epigenetis oppure Catrino ma qua ci direi chi sono? Catrino a Pinerolo e prendi qua a Baritania si prendi la fabbrica dei chiodi che vai per la baritania si con i chiodi c'è Cristo che tenga questo è il battuto di Paramano vedi che funziona che c'è c'è il c'è un travertino per esempio cosa fa? birreria? birreria? ma è da tanto che c'è quella birreria funziona sempre? ma non tanto adesso vanno tutti quanti laggiù non viene appena su uno e quanto tempo durerà lì? eh però intanto intanto quanto spendono qui spendono lì poi ci divertono di più no è laggiù più a Duca qui invece è seduti ai tavoli alla fine di stancho pure starei seduti sulle panche ah la qui siamo sul gare di casa mia Rue du Cassonet quel via alberato il via del Cassonetto lo metto è piano che il quale tutto è firmato è buio non si vede un cazzo potevo anche stupare prima voilà non si complè quando arrivi un escemo e voilà qua tu hai dei bus la vita lì prima la porto prima ok pausa